Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Guardate un po' che vi faccio vedere. Non potete capire il profumo che emanano questi muffin. Spero di potervi farvi vedere. Ecco la morbidezza. Ho realizzato questi muffin con la Nutella. Una ricetta veramente semplicissima, non occorrono tantissimi ingredienti e in pochissimo tempo si possono tranquillamente realizzare. Quindi mi raccomando, guardate tutto quanto il video, lasciate un mi piace e condividete. Vi ricordo che mi potete seguire sui social, su Facebook sono La Cucina di Maria, su Instagram è La Cucina di Maria Official e vi aspetto anche sul mio gruppo di ricette, condividi le tue ricette con Maria. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace, condividete e fatemi sapere se ovviamente vi sono piaciuti. Un bacione grande e un saluto a tutti. Grazie 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 a tutti.